Nel suo libro, Con gli occhi dei maestri, la scelta di determinati nomi, da che criterio guida è stata ispirata? Dal criterio di coloro che a mio avviso sono stati i maestri della generazione che mi ha preceduto. Voglio dire, le grandi scuole sono due, quella italiana e quella anglo-tedesca, diciamo anglo-miteleuropea. E quindi il fatto che poi io li abbia almeno cinque di questi conosciuti e frequentati intensamente anche nel corso della mia vita, mi ha permesso di dare anche una coloritura umana, perché insomma la loro umanità non era estranea alla loro grandezza. Ecco, questo è quello che io ho voluto dire. Con gli occhi dei maestri, il maestro significa tutto nell'insegnamento, nella diffusione della cultura e dell'arte? Eh sì, ma io da questo sono partito, dal fatto che mi è parso chiaro, mi pare chiaro, che oggi ci vogliono dei maestri. Insomma, in questo mondo, in questo mondo, i maestri latitano o non vengono riconosciuti o non si vuole che siano dei maestri. E invece lo devono essere e ci vogliono. Inoltre, sa cosa vuole, è che a un certo punto della vita uno si chiede ma chi sono stati i miei maestri? Cioè chi sono stati coloro che hanno messo giù i paletti entro i quali si è poi sviluppata tutta la mia vita? E sono stati questi, insomma, in sostanza. Prima sentivo, è senz'altro il libro probabilmente più bello, o uno dei più belli che Caroli ha scritto. Perché c'è emozione, perché è emozionale, perché cosa? Sì, bontà, bontà sua. La signora ha detto così. Probabilmente il fatto deriva dal fatto che qui c'è forte la componente umana. Insomma, il fatto proprio il ricordo umano anche di queste persone, che erano persone anche umanamente straordinarie. Forse è questo che arriva di questo libro. Naturalmente a me fa molto piacere perché l'umanità, dopo tutto, viene prima di tutto. Un'ultima cosa, lei oggi riceve il premio Le Grandi Guglie della Grande Milano, del Centro Studi Grande Milano. Più orgoglioso, onorato, emozionato? Beh, guardi, veramente sono molto orgoglioso. Per dire la verità, sono molto orgoglioso e molto felice. Perché, insomma, oggi è il giorno nel quale la città che ho scelto, nella quale vivo da 40 anni, mi riconosce qualcosa. Cosa devo dire? La cosa mi fa molto piacere, molto, sai, con la storia del nessuno profeta in patria, eccetera. No, questo è un riconoscimento e quindi vuol dire che Milano, oltre che accogliente, è generosa anche in qualche modo. E anche generosa, vuol dire che ho scelto bene, ecco, mi complimento con me stesso perché ho scelto bene.